Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a risolvere un quesito preso dagli esami di Stato del liceo scientifico. La risoluzione che vi propongo è stata proposta, appunto effettuata, da quattro miei studenti della classe 4a C Scienze Applicate del liceo Bocchi Galilei di Adria, anno scolastico 2020-2021. Gli ringrazio per questo, si tratta di Akel Mohamed Samer, De Biasi Costanza Sofia, Ripepi Enrico Zampirolo Alex, studenti di una classe quarta, infatti si può rispondere al quesito che qui appunto vi propongo utilizzando strumenti di cui già si dispone in una classe quarta. Il quesito è il seguente, si consideri la seguente proposizione, in ogni triangolo isoscele, in un qualunque triangolo isoscele, la somma delle distanze di un punto della base dai due lati uguali è costante. Si dica se è vera o falsa e si motivi esorientemente la risposta. L'argomentazione di Persep semplice, che adesso vi vado appunto a proporre, proponderà per dimostrare che questa proposizione è sempre vera e motiveremo il tutto. Allora, consideriamo un triangolo isoscele di vertici ABC, quindi isoscele sulla base AB con il lato AC congruente al lato CB. Prendiamo un punto D qualunque appartenente alla base AB. Indichiamo con DE e DF la distanza che questo punto ha rispettivamente dei lati AC e i lati BC. In figura ovviamente vedete tutto. La distanza DE come segmento di distanza è perpendicolare al lato AC, DF è perpendicolare al lato BC. Visto la perpendicolarità andiamo a individuare, si individuano due triangoli rettangoli DEA, rettangoli in E, e DFB, rettangolo in F. I due angoli alla base nel triangolo isoscele sono stati indicati con α e β. Ovviamente sono due angoli congruenti. Questi due angoli sono angoli acuti nei due triangoli che stiamo considerando, α angolo acuto nel triangolo rettangolo EAD e β nel triangolo rettangolo FBD. Quello che vogliamo dimostrare è che ED più DF, quindi la somma tra le distanze, è costante. Come è possibile riscrivere ED? ED è un cateto nel triangolo rettangolo EAD. Per un noto teorema sui triangoli rettangoli, vi ho dedicato un video ad hoc, il cateto ED è pari all'ipotenusa D per il seno dell'angolo α, seno dell'angolo opposto a questo cateto. Nel triangolo di destra il cateto DF è pari all'ipotenusa DB per il seno dell'angolo in β. Consideriamo i seni di due angoli che stiamo considerando, seno α e seno β. α e β sono due angoli congruenti, quindi questa somma può essere riscritta mettendo al posto di seno β il seno di α, i due angoli alla base sono congruenti appunto. Otteniamo AD per il seno di α più DB per il seno di α. Raccogliendo a fattor comune senα, otteniamo tra parentesi tonde la somma AD più DB. La somma AD più DB è pari alla base AB. Quindi la somma tra le due distanze D e DF è pari al seno dell'angolo α. In un triangolo il seno dell'angolo alla base assume un valore costante, l'angolo non cambia considerando un medesimo triangolo. E la base AB ovviamente è un qualcosa di costante, ha una misura costante, ha un valore costante. Si tratta di un lato del triangolo. Questo prodotto è un prodotto tra due costanti. Quindi la somma tra i D e i F è costante. Non mi dimentico ovviamente di suggerirvi, di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati, lasciate pure un mi piace, commentate. E detto questo vi ringrazio per l'attenzione, per aver seguito questo video. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.